L'anima nera. Lo so Calanchi, lo interruppe l'amministratore delegato della società. Tu sei l'anima nera del sindacato, che ci procura tanti grattacapi. Spostò lo sguardo dal giovane al capo del sindacato presente anche lui. Chiamò la segretaria. A quanto pare nel sindacato tu sei più importante del tuo capo, disse a Calanchi la D. La segretaria prese i recapiti personale del giovane. Il capo del sindacato interno all'azienda assisteva. Quello che volete voi è diverso da quello che voglio io, disse la D. Ciò non toglie che siamo tutti professionisti del nostro lavoro. Io lo sono stato veramente, disse il capo del sindacato, ma non capisco perché lei adesso dia più importanza a Calanchi che mi sta facendo le scarpe. Perché amo la lotta dell'io, disse l'amministratore delegato. E l'io di Calanchi ora vince sul tuo io. Grazie a tutti.